Covid 25 casi a Pesaro riapre l'ex Risto a Borgopace il camper per le vaccinazioni No Green Pass terza manifestazione contraria in piazza del popolo Non solo la fiera, Green Pass obbligatorio anche per la notte delle candele A Tavulli è inaugurato il nuovo parco inclusivo realizzato con il fan club di Valentino Rossi Lunedì 2 agosto una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV Il canale 633 del Digitale Terrestre Bentornati a un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale Rossini News In apertura parliamo di tutti gli aggiornamenti sanitari legati al Covid-19 sul territorio regionale In questo primo servizio, oltre a bollettino quotidiano relativo ai nuovi casi Parliamo anche dell'avvio del servizio camper per le somministrazioni dei vaccini Anche nella provincia pesarese, più precisamente nel comune di Borgopace Sono 65 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore a livello regionale Numeri in calo come ogni lunedì rispetto alle giornate precedenti Visto il numero più basso di tamponi processati nella giornata di domenica 849 quelli totali, di cui 336 nelle nuove diagnosi e 513 nel percorso guariti Più di un terzo dei casi, nello specifico 25, sono quelli segnalati nella provincia di Pesaro Urbino Mentre nell'ultima giornata il servizio sanità non ha notificato alcun decesso legato al coronavirus Sono 9 invece le persone che attualmente si trovano ricoverate all'ospedale di Pesaro Marche Nord 5 in terapia intensiva, 1 in semi-intensiva, 2 in ostetricia E infine l'ultimo paziente si trova nel reparto ordinario dedicato al Covid-19 Sul fronte vaccini, l'hub pesarese situato nei locali dell'ex Risto Ha riaperto i battenti questa mattina grazie all'arrivo di quasi 2000 dosi Pfizer Dosi utili per smaltire le richieste accumulate anche nel distretto pesarese In seguito alle decisioni comunicate dal governo sull'uso del Green Pass Le prenotazioni, in crescita nelle ore successive all'annuncio del nuovo decreto E che sono poi tornate in linea con quelle delle giornate antecedenti Erano state rimandate a causa della bassa disponibilità di vaccini Nel frattempo è partita oggi anche nella provincia di Pesaro Urbino Più precisamente nel comune di Borgo Pace, all'esterno del Palazzetto dello Sport L'attività dei camper destinata a supportare la campagna di vaccinazione anti-Covid E grazie ai quali saranno effettuate somministrazioni senza la necessità di prenotazione Buoni i numeri riscontrati nel fine settimana nelle altre località marchigiane Dove il servizio risulta essere già attivo Come ha sottolineato l'assessore alla sanità regionale Filippo Saltamartini Stanno andando fortissimi Diciamo che molte persone però che hanno prenotato la seconda dose Vorrebbero sistemare la partita con la vaccinazione nei camper Il che diventa complicato Però c'è un bel risultato positivo Devo dire che sono numerose le persone che si sono avvicinate al camper E quanti si sono prenotati per ottenere il secondo vaccino Devo sottolineare però che per il volume delle nuove prenotazioni Ci potranno essere dei rallentamenti nella vaccinazione Perché la fornitura dei vaccini non è così abbondante come a noi servirebbe Quindi serve un po' di programmazione per allungare i tempi di vaccinazione Il problema è questo che deriva dal rifornimento dei vaccini da parte del commissario Ed è stato un nuovo pomeriggio di protesta contro il Green Pass Quello andato in scena sabato in Piazza del Popolo Che porta così a tre il numero totale delle manifestazioni Che si sono tenute fino ad oggi a Pesaro Contro la certificazione verde Vediamo il servizio È andata in scena nel tardo pomeriggio di sabato in Piazza del Popolo La nuova protesta pesarese per dire no al Green Pass Nelle diverse situazioni in cui a partire da venerdì 6 agosto Sarà reso obbligatorio I manifestanti hanno stazionato e sfilato lungo il perimetro della piazza Intonando il coro No Green Pass Libertà Gli agenti delle forze dell'ordine hanno invece sorvegliato gli accessi alla piazza Per far sì che il corteo non si riversasse nelle vie collegate del centro storico Quella di sabato che ha radunato più di un centinaio di persone È stata la terza manifestazione organizzata a Pesaro contro il certificato verde Il primo appuntamento risale a sette giorni prima Quando anche in diverse altre città italiane erano andati in scena episodi di protesta Qualche sera più tardi invece ha avuto risalto a livello nazionale Il corteo di protesta giunto sotto la residenza del sindaco di Pesaro Matteo Ricci Il quale ha poi subito annunciato la volontà di denunciare Chi faceva parte del gruppo recatosi sotto la sua abitazione Nella quale durante l'accaduto non era presente il primo cittadino ma i suoi familiari Attualmente sono 15 le persone per le quali sono scattate le querele Tra i manifestanti c'era anche il ristoratore e imprenditore pesarese Fondatore e leader del movimento Ioapro Umberto Carriera Che a sua volta ha annunciato azioni legali contro il primo cittadino Sostenendo che quanto dichiarato da Ricci non rappresentasse la veridicità dei fatti Accaduti lo scorso 28 luglio Lo stesso Carriera ha sottolineato l'avvio delle procedure legali Anche nel corso della manifestazione di sabato contro il Green Pass Alla quale era presente Trovo assurdo trovare un cordone di polizia nella via che porterebbe a casa di Matteo Ricci Un cordone nella via che porterebbe a Lazzarino Che si porterebbe a rossimare Di essere chiusi qui dentro Di 100 persone con mamme, bambini, disabili, anziani, famiglie Senza facciano noci Proprio come è successo tra l'altro mercoledì Dove Matteo Ricci ha praticamente manipolato quella che è la realtà dei fatti Ci sono per fortuna decine di video che girano sul web Ci diranno da che parte sta la verità I miei avvocati questa mattina hanno depositato querela contro Matteo Ricci Per quello che ha detto e quello che ha fatto contro tutti Piena fiducia nelle forze dell'ordine In quello che accadrà nel tribunale Noi siamo assolutamente tranquilli Tra l'altro le forze dell'ordine con un comunicato hanno espresso in maniera molto chiara Quello che pensino un po' di tutti Cioè che Matteo Ricci ha cavalcato l'onda mediatica Di ciò che non è accaduto Perché praticamente niente è accaduto Semplicemente per scopi elettorali Questo è evidente sotto gli occhi di tutti E dopo la fiera di San Nicola Anche per candele sotto le stelle Sarà necessario avere il Green Pass L'annuncio è arrivato dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci Il giorno prima della presentazione ufficiale Dell'edizione 2021 Di uno degli eventi più attesi Del cartellone estivo peserese I controlli previsti per la notte delle candele Come concordato anche con il prefetto della provincia di Pesaro Urbino Tommaso Ricciardi Verranno effettuati a campione su tutto il lungomare Ricci ha inoltre sottolineato Che l'amministrazione comunale Metterà a disposizione dei punti Per fare il tampone gratuitamente Per chi non è ancora vaccinato Nelle giornate del 9, 10, 13 e 14 agosto Maggiori dettagli Sull'organizzazione di questa nuova iniziativa Promossa dal Comune E sull'edizione 2021 di Candele sotto le stelle In programma per il 10 agosto Verranno resi noti domani Nel corso di una conferenza stampa Che seguiremo e che vi racconteremo quindi Nell'edizione di domani sera Del nostro telegiornale E ora andiamo a Tavullia Perché questa mattina si è svolta L'inaugurazione dello Yellow Park Tavullia Un nuovo parco comunale inclusivo Realizzato dal Comune In collaborazione con il fan club Di Valentino Rossi E Terre di Piloti e di Motori Mercoledì in prima serata Su Rossini TV Vi racconteremo nel dettaglio Questa inaugurazione Di cui vediamo qualche immagine Nel prossimo servizio A cura di Marco Cadeddu Lunedì 2 agosto 2021 Siamo a Tavullia Inaugurazione dello Yellow Park Grazie all'intervento Del Comune di Tavullia In collaborazione con il Valentino Rossi Fan Club E l'Associazione Terre di Motori e Piloti Siamo con Francesca Paolucci Il sindaco di Tavullia Ieri l'Italia conquista due medaglie d'oro Alle Olimpiadi di Tokyo Con una giornata che passa alla storia Oggi 2 agosto Passa alla storia per Tavullia L'inaugurazione dello Yellow Park Bello Mi piace questo binomio Allora intanto Grandissimi complimenti A chiaramente A Jacos e Gianmarco Che è marchigiano Quindi tanto onore per noi ancora Qua siamo nella terra di un altro campione Grande campione del mondo Tavullia Oggi inauguriamo questo parco Un parco comunale dedicato a tutti i bambini del mondo Questa è la dedica che ci siamo sentiti di fare Perché è un parco inclusivo Dove tutti i bambini anche con disabilità Potranno entrare e utilizzare i giochi Che verranno installati Questa idea è nata Tanto per riqualificare un'area Che era già verde Con dei giochi per bambini Un'area non bellissima In questi anni Nel nostro territorio comunale Abbiamo cercato di riqualificare diverse aree E portarle all'accessibilità Alla vivibilità quotidiana In particolare di bambini e famiglie In questo caso La sinergia con il fan club Valentino Rossi E l'associazione Terra Piloti e Motori Ci ha dato lo spunto Per realizzarlo a tema Quindi è un parco molto colorato Molto gioioso Per noi diventa un po' il simbolo Della riapertura Della ripartenza In questi anni Dove anche i bambini Hanno sofferto di una mancanza di socialità Importante Quindi un avvenimento Sicuramente Che speriamo Venga apprezzato Da tutti Sia dai nostri cittadini Sia da coloro Che vorranno venirci a trovare Ecco il parco sarà sempre aperto Sindaca E soprattutto Sarà un elemento prezioso Di attrattiva turistica Perché ormai Tavulli è più conosciuta di Pesaro Nel mondo Allora sicuramente è sempre aperto Non ha spazi chiusi Quindi è completamente aperto Molto ombreggiato Quindi anche Si sta bene Diciamo Ci sono molte piante È uno spazio molto verde Ed è anche un punto dove Chi viene per motivi turistici A visitarci Troverà accoglienza Quindi è sicuramente Uno spazio dedicato Non solo a chi ci abita Ma anche a chi A chi vorrà venirci A trovare Rendere ancora più bella E pulita la città Questo è l'obiettivo Di Insieme Facciamo Piazza Pulita Iniziativa promossa Dal comune di Pesaro E da Marche Multiservizi L'operazione attiva Dal 28 giugno E fino alla metà di settembre Prevede la pulitura Intensificata di strade E bidoni Della red urbano Nelle zone più battute Dai residenti e turisti Il servizio di spazzamento Manuale Quello di raccolta Di rifiuti Viene effettuato Tutti i pomeriggi Da 5 operatori E grazie a 4 motoveicoli Elettrici E in vista Dell'ormai prossimo Approdo In consiglio regionale Delle modifiche Apportate dalla giunta Al piano socio-sanitario Regionale Il gruppo assemblare Del Partito Democratico Si è riunito Questa mattina Per sottolineare Le carenze di una riforma Che secondo I consiglieri di opposizione Rischia di abbassare La qualità Dell'offerta sanitaria Marchigiana E di far perdere Risorse fondamentali Per il ripensamento Del modello sanitario Dopo la drammatica Esperienza Del covid E torna a Pesaro La festa dell'unità Da mercoledì 25 A domenica 29 agosto La politica Incontra i cittadini In piazza del popolo Si inizierà Con l'anticipazione Già da lunedì 23 Del ministro Speranza In piazzale Collenuccio Sul fronte sportivo Invece Giornata da incorniciare Ieri per la regione Marche Grazie alla conquista Della medaglia d'oro Alle olimpiadi di Tokyo Di Gianmarco Tamberi Il 29enne di Civitanova Marche È salito sul gradino Più alto del podio Nella disciplina Del salto in alto In exequo Con il catariota Barshim Con la misura Di 2 metri E 37 A tutte le congratulazioni Già arrivate Fino a questo momento Si aggiungono quindi Anche quelle di tutta La nostra redazione E dopo l'approvazione Della legge regionale Si sono tenuti A Palazzo dei Principi Di Carpegna Gli stati generali Dell'artigianato Settore chiave Come hanno affermato Le varie autorità Intervenute all'evento Per il rilancio Dell'intero territorio Vi racconteremo Nel dettaglio Questo appuntamento Con uno speciale Che andrà in onda Da domani martedì 3 agosto Alle 21 e 30 Vediamo intanto Qualche anticipazione Con le prossime interviste Dopo l'approvazione Della legge Nel corso Dell'ultima assemblea Legislativa Si svolge oggi 30 luglio Qui a Carpegna Presso il Palazzo Dei Principi Il primo appuntamento Degli stati generali Dell'artigianato Organizzato Dall'assessorato regionale Diciamo che ci tenevamo Davvero tanto A fare qualcosa Di concreto Per il mondo artigianale Marchigiano Abbiamo approvato Martedì Una legge All'unanimità In consiglio regionale Che rimette al centro L'attività artigianale Che nella nostra regione È veramente molto importante Siamo la regione Con la più alta percentuale Di imprese artigiane Rispetto al totale Delle imprese Abbiamo una capacità Di creare innovazione Grazie ai tanti Imprenditori artigiani Che hanno fatto grande Le marche E hanno anche creato Delle industrie eccellenti Partendo dall'artigianato E quindi Questa è la nostra tradizione La nostra storia Però deve anche essere Il nostro futuro Ed è per questo Che stiamo qui A Carpegna A parlare del futuro Dell'artigianato Quali sono le nuove forme Di commercio Quali sono le nuove forme Di produzione Su cui la regione Attraverso anche i prossimi Fondi europei Può creare contribuzione Per renderle competitive E riuscire a farle stare Sui mercati Insieme a tanti altri settori Però l'artigianato Credo che sia Una delle priorità Su cui guardare È un'eccellenza assoluta Intorno all'artigianato Si può sviluppare Veramente un volano Incredibile Pensiamo ad esempio All'artigianato Legato al turismo All'artigianato Legato al commercio Piccolo E pensiamo Alla legge sui borghi Che non ho citato Poco fa Ma che rappresenta Il cuore pulsante Del nostro progetto Per le marche Perché è appunto Volto a recuperare Tutte quelle aree Che purtroppo Hanno vissuto Lo spopolamento Soprattutto nell'entroterra E in un borgo Uno non pensa Di trovare qualcosa Che è legato Alla grande distribuzione In un borgo Noi vogliamo Restituire Il protagonismo Al commercio All'agricoltura E all'artigianato E alla manifattura Le piccole realtà Devono essere valorizzate E devono essere tutelate Quindi Diciamo che la regione Ha dimostrato In questa occasione Una grande attenzione Per le aree interne E in questo caso Anche le aree di confine A pochi chilometri Abbiamo Toscana E Romagna E io direi Che è un atto Molto importante Secondo me Va proprio Nell'ottica Di ridare ossigeno Ai piccoli comuni Che hanno bisogno E non dimentichiamo Che da poco Sono passati Due comuni Nostri vicini In Emilia Romagna Questo è un gesto Della regione Che ci dà La possibilità Appunto Di valorizzare Le aree interne E va nell'ottica Anche di dire Le marche ci sono E hanno Danno importanza A tutti Alle grandi città Ma anche ai piccoli centri E gli stati generali Dell'artigianato Sono stati L'evento centrale Della mostra Mercato Dell'artigianato Artistico Delle Marche Manifestazione Che ha avuto Luogo in quest'ultimo Fine settimana Proprio a Palazzo Dei Principi A Carpegna In cui 20 aziende Regionali Hanno esposto E presentato Le loro eccellenze Vi racconteremo Quindi anche Quest'altro Importante evento Con uno speciale In onda Su Rossini TV Mercoledì In prima serata E ha preso il via Sempre questo Fine settimana La mostra Giuseppe Diamantini Pittore e incisore Dalle Marche A Venezia Organizzata dal comune Di Fossombrone Con il sostegno Della regione Marche In occasione Dei 400 anni Dalla nascita Dell'artista L'esposizione Sarà visitabile Fino al prossimo 17 ottobre Nella chiesa Di San Filippo E nella Pinacoteca Civica del comune La mostra di Giuseppe Diamantini Pittore e incisore Nato a Fossombrone Nel 1623 È un evento Straordinariamente Importante Per Fossombrone Perché È un'iniziativa Di carattere culturale Che oggi Viene inaugurata Ma che durerà Fino al 17 ottobre Ma perché Il pittore Che è stato scelto È fondamentale Nella scena Del Seicento Importantissimo Come incisore Molto noto Sicuramente A Venezia Ma Poco noto Come Spesso capita Nemo Profete in Patria Nella sua città La città Che gli ha dato I Natali Questa è una mostra Molto importante Ci sono tantissime incisioni Tantissime pitture Che valorizzano Un artista Straordinario Il comune di Fossombrone Insieme alla regione Marche Hanno fatto Un lavoro straordinario C'è il patrocinio Del ministero Dei beni culturali E tutto questo Sta a significare L'importanza Che ha Questa manifestazione In terra di Fossombrone In questi cinque anni L'amministrazione comunale Ha intrapreso Tutto un percorso Di riqualificazione Dei musei E anche Di Conoscenza Delle tante personalità Che sono nati A Fossombrone Nella storia Abbiamo tutta una serie Di figure Molto importanti Se pensiamo ad Ottaviano Petrucci Anselmo Bucci Insomma In tanti anni Veramente delle figure Importantissime E una di queste Appunto È il pittore Seicentesco Giuseppe Diamantini Che Devo dire In patria Forse poco conosciuto Quindi Abbiamo voluto In questa mostra Presentarlo E farlo conoscere Al grande pubblico Soprattutto però Abbiamo piacere Di farlo conoscere Alla nostra città Ai nostri giovani Per far sì Che insomma Queste sono le nostre radici E la nostra cultura E quindi Siamo molto emozionati Di dare il via Alla mostra Che durerà Fino al 17 di ottobre Sarà aperta Tutti i giorni Escluso il lunedì Quindi Ci sarà grande possibilità Di visitarla Abbiamo fatto anche Un biglietto speciale Per i nostri concittadini Un biglietto da un euro Proprio per far sì Che tanti cittadini Forse impronesi Vengano a visitare Questa mostra Poi naturalmente Ci auguriamo Che arrivi gente Da tutta Italia O anche E anche da fuori Quindi Un grande momento Per la città Io spero Che la città La prenda Come una grande festa Alla mostra Dedicata al pittore Diamantini Che oggi andiamo ad inaugurare Rappresenta un po' Il compimento L'epilogo Diciamo così Di un'esperienza Che dura ormai Da cinque anni Cioè dall'inizio Del nostro insediamento Abbiamo puntato molto Al rilancio turistico E culturale Della città Iniziato con un restauro Un restyling Dei nostri beni culturali Che sono importanti Sono tanti Che abbiamo trovato In uno stato Diciamo un po' così Di abbandono E quella di oggi Per cui diciamo Arriva alla fine Di un percorso Che ci ha portati Appunto a valorizzare Le nostre strutture Un evento importante Un evento Per il quale Devo ringraziare La regione Per il grosso contributo Che ci ha dato Perché per un comune Come il nostro È un impegno Veramente notevole Ringrazio anche i dipendenti E tutti coloro Che hanno collaborato E per questa mostra Abbiamo realizzato Anche un catalogo Dedicato al pittore Diamantini Che non è un semplice catalogo Ma è un vero e proprio Volume Dedicato al pittore stesso Incisore Per cui sicuramente Anche questo Sarà un Comunque un oggetto Di valore Legato appunto A questa iniziativa Il catalogo Si configura Come uno strumento Che serve ad accompagnare Il visitatore A raccontare Insomma Nello specifico Tutti gli aspetti Della sua attività Ma si configura Come una vera e propria Monografia In quanto Vengono pubblicati Riprodotti Dipinti Che sono conservati Molte in collezioni private Addirittura Anche a Praga Nel castello Di Dobriz Dove c'è Un importantissimo Dipinto Che venne commissionato A Diamantini Dall'allora Ambasciatore Imperiale Presso la Serenissima Di Venezia Nel 1662 Da tempo Giuseppe Diamantini Aspettava di essere Riscoperto Il suo profilo La sua vita La sua carriera E siamo molto contenti Che avvenga Nella città Che gli ha dato A Natale Che quindi Lo fa rinascere Alla conoscenza Anche del grande pubblico In questa mostra Lo scopriremo In tutti i settori Della sua attività Pittore Disegnatore Incisore Un artista Tutto tondo Che credo Per la prima volta Si possa conoscere Appunto In tutte le sue sfumature E questa era davvero L'ultima notizia Per questa edizione Del nostro telegiornale Vi ricordo ora La prima serata Su Rossini TV Perché questa sera Alle 21.15 Una nuova puntata Dell'arte e della bellezza Protagonista Dell'appuntamento Di questa sera Sarà Alessandra E la puntata La potrete seguire Quindi in prima visione Questa sera Alle 21.15 E poi nelle repliche Nelle prossime giornate Che sono indicate Nel cartello Vi ricordo inoltre Che a partire Da questa settimana Potrete rivedere Le puntate Di alcune produzioni Di alcuni programmi Di Rossini TV Andati in onda Nell'ultima stagione Tra questi C'è Casa Rossini Potrete rivedere Infatti alcune repliche Di questa trasmissione Dal lunedì Al venerdì Su Rossini TV Alle 10.00 Nella mattinata E invece in serata Alle 22.00 Così come Per Casa Rossini Potrete seguire Le repliche Di Insieme a Canestro Il programma Della stagione 2020-2021 Dedicato alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Da lunedì Al venerdì Nel pomeriggio Alle 15.30 E poi vi ricordo Che potete scaricare Dagli store digitali Apple e Android La nuova applicazione Di Rossini TV Attraverso la quale Potrete seguire In diretta La nostra emittente Le nostre trasmissioni 24 ore su 24 Oppure Rivedere le notizie I programmi E i contenuti Già andati in onda Appunto Attraverso la nostra app Vi ricordo inoltre Che l'informazione Su Rossini TV Torna puntuale Domani mattina In diretta Alle 7.20 Con la nostra Rassegna stampa Buongiorno Rossini Grazie per averci seguito In questa edizione Del nostro telegiornale Un buon proseguimento Di serata Su Rossini TV